Sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare che è una partita che possiamo vincere. Quindi domani si va in campo con l'intento di prendere i tre punti. Ma intanto a me, come allenatore, non mi interessa mettere le mani avanti e quindi dire che questi sono forti, quindi se pareggiamo, può essere che no. A me interessa pensare che domani si va in campo e si deve vincere, quindi non mi interessa. E' pur vero, però, e non è per mettere le mani avanti, che giochiamo con una squadra che ha fatto più punti di noi. Quindi è una squadra forte, una squadra che è retrocessa lo scorso anno, ma che è conservato nella sua rosa giocatori di talento, giocatori che hanno quasi tutti fatto la Serie A e che quindi senza la penalizzazione sappiamo a che punto sarebbero. Quindi è una partita difficile, è una partita che sicuramente avremo del filo da torcere, però è una partita secondo me alla nostra portata. Poi c'è un discorso secondo me fondamentale. Loro vivono una situazione difficilissima, economico, societaria. E secondo me i giocatori bravi, ma soprattutto i giocatori forti, da queste situazioni ne traggono beneficio. Perché sono situazioni in cui ti fanno uscire tutto quello con giocatori addentro. Tutto il bene con il giocatore addentro, quindi saranno stimolatissimi perché vogliono dimostrare che nonostante tutte le difficoltà, loro sono lì sul pezzo, che nonostante il fatto che non prendano soldi o cose varie, loro vogliono dimostrare di essere i numeri uno. E quindi questo farò uscire fuori da ognuno di loro il massimo. E allora anche per questo sarà una partita difficile. Grazie a tutti.